E' morto a 89 anni Giorgio Grigolli, figura di spicco della democrazia cristiana e dell'autonomia trentina. Grande sportivo fu tra i fondatori della Marcia Longa e presidente del Calcio Trento negli anni d'oro della società. Giornalista, editorialista, intellettuale, sportivo ma soprattutto politico di razza, esponente di primo piano della DC Trentina tra gli anni 60 e gli anni 90. Giorgio Grigolli è morto all'età di 89 anni nella sua abitazione di Trento in seguito a un malore. Lascia una enorme eredità politica. La sua impronta emerge chiara nella storia recente del Trentino e il suo nome, assieme a quello di Bruno Kessler, è indissolubilmente legato all'evoluzione dell'autonomia dalla dimensione regionale a quella provinciale. Esponente di spicco della corrente Dorotea del partito nel 1958 è nominato segretario provinciale della DC. Dal 74 al 79 diventa presidente della giunta provinciale e per quattro legislature tra il 64 e l'83 ricopre il ruolo di consigliere provinciale. Una passione quella politica condivisa con quella sportiva. Nel 1970 è tra i fondatori della Marcia Longa. Inoltre sotto la sua presidenza negli anni 80 il Calcio Trento conoscerà le sue più belle stagioni sportive. Nato giornalisticamente all'Adige, di cui negli anni 60 diventa vice direttore responsabile, Giorgio Grigolli continuerà a scrivere fino a pochi giorni dalla sua scomparsa.